Le nostre ragioni, l'assessore Primieri spiega le procedure seguite per l'apertura della messa scolastica. Il Nido, al quartiere Petignano, sabato scorso è stata inaugurata la nuova struttura. Teatro Spazio Fabbrica, riparte la stagione. Come annunciato nei titoli, questa settimana abbiamo in studio un ospite, l'assessore alla istruzione e alla viabilità del comune di Orte, Mauro Primieri. Do quindi la linea a Gianni Di Felice. Questa sera è con noi l'assessore Mauro Primieri. Benvenuto nel nostro spazio. Mauro Primieri, iniziamo un po' dalla vicenda che in questi ultimi tempi è stata al centro delle discussioni. Brevemente però non ci vorrei spendere molto tempo perché gli argomenti di nuovi ce ne sono. Per fortuna su cui parlare questa è una vicenda chiusa, però ha creato un po' di polemiche, di disagio anche se vogliamo ai genitori. Insomma, un po' ricostruiamo questa vicenda dal punto di vista dell'assessore Primieri. Sì, te ne ringrazio la domanda, tu riferisci sicuramente al problema dello spostamento della cucina, siamo legati quindi al servizio di relazione scolastica. Vedi, io cerco di essere breve. Quello che ho imparato in questi nove anni è che ci sono due modi per fare politica. Quella per distruggere e quella per costruire. Le opposizioni qui a Orte purtroppo fanno politica per distruggere perché su una serie di temi come questo della cucina, non sapendo minimamente quali erano i problemi, le difficoltà che l'amministrazione incontrava, hanno cominciato a mettere fuori manifesti, scrivere sul giornale. Tutta una serie di cose non vere. Tra l'altro dicevano che io davo i numeri perché dicevo certe date, inizialmente queste non venivano realizzate. Poi c'è chi invece lavora per costruire, che è il quadrifoglio, perché noi in tutte le occasioni, sia quando diamo servizi, sia quando abbiamo fatto delle strutture o cose nuove nell'ambito del territorio, lo abbiamo fatto con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini, cioè dando dei servizi in più, dando delle strutture da utilizzare in più, penso alla palestra, al sottopasso e così via, ma ce ne sono tante altre, e lo facciamo con l'ottica di dare qualcosa che migliori. L'opposizione dovrebbe contribuire a questo miglioramento, perché molto spesso se dimenticano che anche loro sono amministratori, fanno parte del Consiglio Comunale, sono amministratori comunque del Comune, e dovrebbero contribuire magari con suggerimenti anche a migliorare le proposte della maggioranza. Invece il problema è semplice, mi sembrano come fa Grillo, basta fare l'opposizione e dicono che va tutto male, per cui poi quello che succede succede. Allora, detto questo, perché il problema dello spostamento della cucina, da noi è stato affrontato, non a cuore leggero, c'erano dei problemi grossi, in che senso? Non si trattava di spostare delle strutture da un locale ad un altro, ma significa aprire una nuova cucina, anche se il grosso delle strutture sono state portate lì. Che significa aprire una cucina? Significa che con le normative che cambiano continuamente alle auto di sicurezza, bisognava attrezzare il locale dove veniva la nuova cucina, quindi all'elementare dei piedi di cordari, in base alle nuove norme di sicurezza, bisognava poi comprare alcune attrezzature, di cui noi non eravamo forniti, a Ortescalo, e quindi mette in funzione, integrare queste con quelle che avevamo e posizionare il tutto. Da lì poi bisognava fare tutti gli impianti, elettrico, gas, idraulico e così via. Questo significa quindi che era come se noi avessimo aperto una cucina nuova. Questo ha richiesto un tempo abbastanza più lungo di quello che Dockera. La domanda è quella che tutti i cittadini un po' si facevano, no? D'accordo ci sono le normative da rispettare, tutto è stato fatto a regola d'arte, ma la gente diceva che questi lavori non potevano essere fatti nel periodo estivo, oppure magari durante le vacanze di Natale, per non creare il problema. La cucina ha funzionato fino al 28 giugno, dopodiché tutti sanno che il mese di luglio e agosto ci sono difficoltà, sia perché le ditte una buona parte aiutano, adesso anche prima perché con la crisi sono problemi più grossi, e quindi rimane difficile poi rapportarsi con questi. Il problema che ci ha frenato è stato il fatto che alcune strutture, alcune cose, anche il piano cottura nostro, quello che avevamo, che è stato mandato a revisionare, sono arrivati il 21 ottobre. Quindi fino a che non arrivava quello che serviva per comprare la cucina, era difficile organizzare tutto il discorso per partire. Se tu consideri che i lavori sono finiti alle 2 di sabato 26 ottobre, noi il 28 abbiamo aperto. Perché? Perché io ho già organizzato tutte le, ho fatto sistemare tutte le aule e mezza, ho organizzato le cuoche che sono state a disposizione, ho avuto sabato, ho avuto il metà posto, ho pulito e preparato tutto, e siamo partiti. Il tempo di partenza per noi era poco, il problema è che fino a che non avevamo la certezza che tutto il materiale arrivava e che tutti gli attacchi venivano sistemati, era impossibile, la mondia di sicurezza non ci avrebbe grandito, nessuno ci avrebbe permesso l'apertura. Quindi noi ecco, quello che ci ha fatto ritardare è stato il ritardo con cui sono arrivate le attrezzature, dovuto al fatto che il mese di luglio ed agosto purtroppo la maggior parte delle vite sono chiuse. Questo mi succede sempre a me perché io quando faccio qualunque cosa, mi trovo che la posso cominciare a pensare a luglio, cioè la pagina da giugno magari, la devo fare a luglio ed agosto che è quasi tutto fermo. E quindi mi trovo che quando ricomincia la scuola ai primi di settembre, sono in difficoltà. Questo è stato un esempio. Per cui voglio dire, ma questi cittadini, i genitori l'hanno capito perché le vado a un gruppetto di 4 o 5 che erano politicizzati secondo me perché si è arrivata come si rapportavano con me, moltissimi genitori o per telefono o direttamente hanno chiesto informazioni e spiegazioni, una volta che gli ho spiegato le difficoltà o i problemi che c'erano, hanno accettato questo e hanno aspettato tranquillamente che partisse questo servizio. perché hanno capito che l'obiettivo dell'amministrazione era migliorare il servizio che veniva dato perché dove stavamo c'era un problema di spazio, cioè dove stavamo la cucina permetteva secondo le norme della ASLE la preparazione di 200-220 pasti al giorno. Noi partiamo da un minimo di 250 pasti fino a un massimo di quasi 400 e quindi lì era impossibile portare avanti il discorso. L'attività è partita, il regime enorme sono problemi? Ancora non è proprio il regime in questo senso, stiamo affinando i tempi perché nel periodo che va dalle 11 e 3 quarti all'1 e 1 quarto, che è quello in cui vengono distribuiti pasti nelle varie scuole, c'è l'uscita della scuola elementare qua su, che ci crea delle difficoltà perché nel momento dell'uscita diventa difficile però stiamo affinando queste cose in modo tale che dovremmo arrivare piano piano a portare in tutte le scuole i pasti nel minor tempo possibile in modo che il servizio sia qualitativamente migliore. Certo, però quello è importante perché se rischia poi che i tempi si allungano i pasti non arrivano come devono arrivare. Una domanda che poi sono gli argomenti che si trattano anche in Consiglio Comunale, quindi potrei rispondere tranquillamente, sono cose già note. Si è parlato anche del costo della mensa, dello scuola, bussa, sappiamo che sono periodi difficili, i comuni sono, non soltanto orte, tutti in difficoltà, ma questi costi sono giustificati oppure no? Allora, prima volevo fare una cosa che mi ha dimenticato, volevo fare un ringraziamento alle ditte che hanno lavorato, che hanno fatto l'impianto idraulico, quello del gas, l'impianto elettrico, che sono ditte di orte, che sono state sempre a disposizione, anche fuori dell'orario di lavoro, per poter, nel momento in cui sono arrivate le strutture, dà la possibilità al Comune di metterla in funzione il prima possibile. E questo lo vi fa perché, siccome ci criticano sempre che noi affidiamo a quelli di orte, secondo loro amici nostri, le opposizioni, questo lo dicono, i lavori, beh, devo dire che se non eravamo le ditte di orte, noi avremmo ritardato ancora di più, se non era la disponibilità, diciamo, di queste ditte, non avremmo ritardato ancora di più l'apertura. I costi sono rimasti gli stessi, perché è rimasto lo stesso, purtroppo il budget che ha l'amministrazione a disposizione, cioè quei dagli che l'anno scorso lo Stato ha fatto, non è che quest'anno sono rientrati, sono rimasti, anzi, perché non abbiamo approvato il bilancio fino ad oggi? E questo è stato uno dei motivi che ci ha fatto ritardare un po' anche il discorso della mensa, perché noi possiamo lavorare solo, spendendo ogni mese un dodicesimo dell'anno precedente, la spesa della mensa non c'era l'anno scorso, quindi quest'anno non c'eravamo una lira a disposizione della mensa, della cucina, e quindi questo era un problema che ci ha creato delle difficoltà, perché chi ci ha fornito le strutture, chi ha lavorato, ha lavorato sulla parola, perché nel momento noi non potevamo mettere in piedi una delibera o una determina per dire, ci sto, il sindaco devo fare un'ordinanza, le regole del patto di stabilità, ha dovuto fare il sindaco un'ordinanza e in base a quella adesso abbiamo messo i soldi sul bilancio, perché andremo a approvare entro questo mese, quindi voglio dire, sono una serie di problemi che sono rimasti, non è che sono cambiati, magari noi potessimo avere la certezza dei trasferimenti dello Stato, che ancora non c'è, perché ancora non si è capito l'IMU che fine va, se la levano tutta, se la rimborsano, la rimborsano la prima, se non rimborsano la seconda, ancora non si è capito questo, allora a questo punto noi magari potessimo ritornare indietro e ridurre i costi, perché lo sappiamo, tutti quello che sono le difficoltà, hanno una famiglia che hanno due figli, come minimo due figli a cari, quello che sono i libri, lo zaino, tutte le spese di iscrizione e cose varie, lo sappiamo perfettamente, io ce ne ho due, fanno scuole più alte di queste dell'istituto comprensivo, però sono perfettamente i costi, quindi sono perfettamente quelli sono i problemi delle famiglie, però devo dire che questo problema la gente, non dico l'ha assorbito, ma ha capito questa difficoltà e devo dire che quest'anno il numero delle utenze, sia degli scuolobus che della mensa, è in aumento rispetto all'anno scorso, c'è stata la protesta, quest'anno questa protesta è quasi svanita, stanno ritornando i numeri precedenti, ma non perché sono obbligati, perché c'è ancora la possibilità di mangiare il panino, quindi possono tranquillamente continuare a fare quello che è l'anno scorso, invece devo dire che sono in crescita sia i numeri dei bambini che prendono lo scuolobus, sia i numeri di quelli che partecipano alla mensa, e questo significa che i cittadini hanno capito quello che è il problema, perché noi non è che ci divertiamo a aumentare le tasse, nessuno, solo uno che è amministrativamente scemo, potrebbe fare una cosa del genere, però purtroppo le situazioni sono difficili, abbiamo grosse difficoltà ancora oggi, se siamo arrivati, perché noi il bilancio lo potremmo approvare anche prima, secondo la legge, ma perché non l'abbiamo approvato? Perché ancora oggi non sappiamo con certezza i trasferimenti dello Stato, quindi noi rischiamo di fare un ragionamento facendo un'ipotesi di trasferimenti, poi domani che non ce ne stanno più, e allora? Stiamo a novembre, immagina tu quello come fai a recuperare. E tra novembre un po' termine quella di scadenza. Quindi questa è la difficoltà nell'amministratore, che ci mette in difficoltà anche a noi alliello personale, perché io onestamente, prima, e qui vorrei fare una precisazione riguardo il fatto che io, ho avuto anche delle critiche perché vado in giro a Cambia Segnali, a fare dei lavori dentro le scuole, cioè al di là del fatto che questo è un discorso di volontariato mio e di chi con me lavora, ho mio figlio Andrea, c'è stato coordinatore del quadrifoglio, poi Moreno Polo ultimamente quando abbiamo spostato la cucina, e altre persone che collaborano. Lo facciamo proprio perché per evitare che il comune comunque recuperi qualche cosa, perché negli anni sono soldi, proprio perché non c'è la possibilità, se no, di dà alle scuole o comunque di fare gare con una quantità di soldi sufficiente per rispondere ai problemi che effettivamente stanno sul territorio. Perché purtroppo la situazione è questa. Senti, ma volevo parlare anche velocemente, perché dopo di noi c'è un servizio sull'inaugurazione dell'asilo a Pedignano, quindi è proprio a spendere un secondo su questo argomento, è un discorso che riguarda più i servizi sociali, però io posso dire che con l'apertura di Stasilo noi abbiamo messo l'ultimo tassello, cioè oggi siamo in grado di dare delle risposte ai cittadini da dei bambini di qualche mese fino alle scuole superiori. Mancava solo questo tassello, noi avevamo le sezioni primavera che prendevano i bambini fino a due anni e mezzo, in questo modo abbiamo completato pure la fascia più bassa e speriamo che anche quello possa, la struttura che io l'ho vista è una struttura fatta a regola d'arte, siamo, diceva il sindaco, il primo comune che porta a termine i temi previsti nel tutto Lazio questa struttura, quindi dove possiamo, e anche qui dobbiamo ringraziare l'impresa perché è una di quelle che si è spesa anche economicamente per ottenere questi risultati, perché capiscono la maggior parte, o io direi quasi laudate dei cittadini, le vado qualcuno, dicevo che fa solo politica così, chiamiamo così dalla vandaia, capiscono quali sono lo sforzo l'amministrazione cerca di fare per poter, e allora i cittadini collaborano per quello che possono alla realizzazione di queste opere. Parliamo di viabilità, in questi giorni sono state installate le colonnine per rilevare la velocità, sabato scorso abbiamo conosciuto il dottor Giglio che è un po' il promotore di questo progetto Noi Sicuri, tante colonnine che dovranno garantire una maggior sicurezza per i cittadini, lo scopo è questo, come è stato già detto sabato scorso, vorrei parlare di questo, e poi anche del servizio urbano, che molti cittadini di Orte ci hanno chiesto di farlo un po' coincidere più con l'arrivo dei treni, se fosse possibile, però parliamo dalle colonnine. Per quanto riguarda il discorso della viabilità, in generale, in questi giorni abbiamo fatto due interventi, uno sulla segnaletica, per il momento orizzontale, poi adesso faremo quella verticale, perché in alcune zone non si vede più, quindi c'erano problemi di sicurezza per chi doveva poi rispettare i segnali, adesso andremo a mettere mano a quella verticale, in parte con la ditta, in parte la farò come ho fatto sempre, e qui vorrei fare una parentesi, vorrei dire a quel servo sciocco che va a fare le fotografie, diciamo che le può continuare a fare, magari se ci avvisa, io mi metto vestito della festa, perché non è che ci mette nessuna paura, noi continueremo a lavorare, a fare volontariato come abbiamo fatto fino adesso, io l'ho fatto per nove anni, non ce la fa fino a quando finirà la scadenza dell'amministrazione. Per cui dicevo, sono due interventi, uno sulla segnaletica, che è importante, e l'altro sulle colonnine. Ho le colonnine, voglio precisare, che non è una spesa fatta dall'amministrazione comunale, è un progetto sicurezza che fa la Regione Lazio, noi abbiamo presentato il nostro progetto che è stato finanziato, e non è che possiamo dire, prevedere il progetto X colonnine, le mettiamo solo una parte, perché il resto lo spegniamo per farsi i lavori, non è possibile, come il discorso delle telecamere, se prendono quei soldi che sono finanziati, quello dal Ministero delle telecamere, questo dalla Regione Lazio, e questi devono essere tutti reinvestiti in questo tipo di strutture. È chiaro che le colonnine sono fatte per una questione di sicurezza, noi in qualunque parte del territorio siamo andati quando facciamo gli incontri con i cittadini, e tutti sono lamentati della sicurezza stradale, perché da tutte le parti ci dicevano che la gente corre e mette in pericolo la vita dei cittadini. Allora, queste colonnine servono come deterrente, chiaramente ci saranno dell'autovelox che gireranno all'interno di queste colonnine, quindi nessuno saprà né dove saranno, né a che ora vengono posizionate, né il giorno in cui vengono posizionate. L'assessore non è corruttibile per svelare dove sarà l'autovelox. No, 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 io farò in modo nemmeno di saperlo, proprio per evitare problemi. Proprio perché noi siamo arrivati al punto, lo vediamo tutti i giorni in televisione, a livello nazionale, che magari perché qualcuno si diverte il sabato sera o perché qualcuno arriva in ritardo a qualche appuntamento, è più importante, fa queste cose piuttosto che la vita di una persona, cioè la vita di una persona diventa una cosa secondaria, non è possibile, bisogna che qui la gente capisce che bisogna rispettare le regole per rispettare anche gli altri, e questo è utile per tutti. L'obiettivo di queste colonnine è proprio questo, quello di far sì che migliori la sicurezza ai cittadini. Ecco, un riferimento poi alla possibilità di far coincidere un po' le cose urbane con l'arrivo dei treni. Il problema non è semplice. Per esempio alcuni cittadini che abitano nel quartiere delle Grazie ci hanno detto arriva il treno, il pullman è partito 5 minuti prima, non ci aspetta. Il problema non è semplice, perché noi, mentre fino a luna abbiamo due pullman che lavorano la mattina, quindi è più facile conciliare orari, il pomeriggio ce n'abbiamo uno solo, è molto più complicato. Tra l'altro le ferrovie adesso, il 10 dicembre ricambiano di nuovo l'orario, già cosa hanno cambiato in questi giorni, perché l'ho visto qualche giorno fa, comunque il 10 ricambiano di nuovo l'orario, quindi noi siamo soggetti, siamo continuamente a rincorrere le ferrovie. Dicevo, siccome c'è un mezzo solo, la difficoltà è quella di riuscire a condentare tutti, perché io ho provato pure l'anno scorso a inserire qualche corso in più, però poi questo va a carico del gestore, che qualche volta ci viene incontro, ma non sempre è possibile, quindi adesso io sto aspettando, intanto verifio com'è la situazione, anche per esempio gli studenti che vengono da Terni, che arrivano ad aspettare mezz'ora, o poco meno, per prendere il pullman, adesso sto verificando le varie situazioni di difficoltà, adesso appena il 10 cambiano l'orario, in base a quello cerco di aggiustare, tenendo conto anche che con le colonnine potrebbero esserci rallentamenti, e quindi comunque, meno che aggiustare gli orari, perché c'è il più tempo per raggiungere la stazione. Ma questo con l'impegno ci sarà? No, no, quello c'è sempre stato, soltanto dicevo che tante volte è difficile congigliare le cose. Grazie Mauro, primiari di essere stato con noi, abbiamo parlato poco fa di Asilo Unito, dell'inaugurazione che c'è stata sabato scorso, e vediamo com'è andata. Siamo molto contenti della realizzazione dell'Asilo Unito comunale, perché diciamo che a livello locale di strutture per i servizi sociali, probabilmente era l'ultima struttura che come amministrazione abbiamo fatto in modo di realizzarla. Io ringrazio tutte le ditte che ci hanno lavorato e i tecnici e gli architetti che hanno creato questa bella struttura, sia nell'idea che poi nella realizzazione pratica, una struttura dedicata, come tutti sapranno, ai bimbi con età da 0 a 3 anni. Per quello che riguarda me, come assessore di servizi sociali, ho fatto in modo di seguire la realizzazione del servizio. E' un servizio che effettivamente mancava e tutte le famiglie, specie quelle del quartiere di Petignano, ma in generale questo servizio è buono per tutta la popolazione di Orte, che hanno appunto genitori impegnati per lavoro e che passano le loro giornate appunto a lavorare e devono sistemare i propri bimbi. La soluzione dell'Asilo Unito è una soluzione molto pratica, molto utile, in un ambiente appunto sereno dove possono giocare, crescere e confrontarsi con i propri parietà. Io faccio un invito a tutte quelle famiglie che ancora non hanno appunto formulato la domanda di iscrizione a farlo, perché lunedì 18 è intenzione mia e del sindaco di iniziare con il servizio e quindi sono molto soddisfatto se questa struttura che potenzialmente può occupare, può riempire 36-40 posti, possa essere riempita per tutte le sue disponibilità di posto, in modo che questo finanziamento e tutto lo sforzo che l'amministrazione comunale in un periodo così difficile come questo ha fatto, sia ripagato con soddisfazione per i cittadini, per le famiglie e per tutti coloro che usufruiranno di questa struttura. Ringrazio il sindaco perché insomma ha profuso anche lui delle forze perché questo finanziamento si raggiungesse e la Regione Lazio che obiettivamente è stata molto disponibile nel finanziarci l'opera e vedere appunto realizzata questa cosa mi riempito d'orgoglio perché la fascia 0-3 anni purtroppo non era stata mai seguita dall'amministrazione dei comuni di Orte e quindi io sono molto soddisfatto anche personalmente. L'altra soddisfazione che dicevo è che il mercoledì abbiamo avuto un'ispezione da parte della Regione Lazio e sono rimasti entusiasti dell'opera perché siamo uno dei pochi comuni della Regione che ha rispettato i termini. Allora, io sono Silvia Pozzi, in socia Michela, in socia Michela Properzi, siamo gli architetti che abbiamo progettato e seguito la direzione dei lavori per la realizzazione di questo nido comunque aziendale, comunque il nido di Orte. La storia l'ha già riassunta il Sindaco, in poche parole però molto chiare, è stato un percorso felice perché abbiamo trovato una buona ditta, abbiamo trovato dei buoni tecnici in regione che hanno seguito l'idea originale di questo progetto e ce l'hanno assolutamente caldeggiata e abbiamo trovato un'ottima ditta locale che ha realizzato il tutto e infine tutte le persone che hanno contribuito intorno a questa storia incredibilmente sono state capaci di dare il loro meglio e il risultato finire si vede nel senso che noi due come architetti siamo molto soddisfatte perché in un anno questa storia è iniziata all'inizio di ottobre dell'anno scorso e finisce praticamente nel senso che viene data alla cittadinanza un anno dopo una struttura completamente autosufficiente che può ospitare i bambini con uno standard molto elevato di qualità e questo ci rende ci dà un senso anche al nostro lavoro e al nostro tempo che abbiamo speso su questa storia il comune di Orte ci fa sapere che poiché la gara di aggiudicazione dell'appalto di lunedì 11 novembre è andata deserta si procederà al più presto ad un nuovo esperimento vediamo ora quanto accaduto questa settimana al comune di Orte con la rubrica Albo Pretorio una buona serata vediamo allora quanto è accaduto questa settimana a Palazzo Nuzzi attraverso le pubblicazioni sul sito internet delle delibere e delle determine che sono state ovviamente oggetto di lavoro da parte degli uffici comunali in quest'ultima settimana per quanto riguarda le delibere c'è un'approvazione del capitolato Doneri predisposto per l'affidamento della durata di tre anni del servizio di gestione attrezzature antincendio comunali si dà diretteva quindi ai settori dei lavori pubblici di procedere all'affidamento del servizio in economia a Cottimo con una procedura negoziata conformemente al regolamento comunale passando poi alle determine il settore lavori pubblici da pubblicazione dei lavori di realizzazione di impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici scolastici comunali della scuola media Antonio X e della scuola materna in località Petignano va individuata ovviamente la modalità di scelta del contraente con approvazione della lettera di invito quindi partirà la procedura per realizzare questo tipo di copertura passiamo poi al settore urbanistica e ambiente c'è la realizzazione in programma di 312 loculi impegno per Regione Lazio c'è anche un quadro economico che ovviamente illustra le tipologie di lavori che devono essere effettuati dai rilievi dagli allacci pubblici a tutto quello che è previsto affinché si vada a realizzare questa opera ricordiamo 312 loculi con un progetto che vede l'importo di 438 mila euro circa quindi c'è la determina che impegna il comune per avviare questo tipo di procedure ed infine concludiamo con una richiesta di variante da parte di una additta che chiede di variare appunto il progetto originario sul recupero della cava di sabbia e ghiaia in località baucche basse era già questa un'utilizzazione rilasciata dal comune di orte nel 2002 c'è ovviamente tutta la richiesta per ottenere questa variante quanto di più importante abbiamo potuto rintracciare nelle pubblicazioni è questo ci sono poi anche ovviamente altre cose minori ripetiamo che questa è una rubrica che è alla sua seconda puntata tratterà di temi che vedono la pubblicazione sul sito internet da parte dell'amministrazione comunale di orte delle delibere e delle determini ovviamente daremo lettura di quelle più importanti che rivestono un carattere generale per questa sera è tutto se soffrite di pollini da oggi potete scoprire quali sono l'università della tuscia attraverso i suoi ricercatori ha effettuato una precisa mappatura della presenza dei pollini allergenici i pollini sono stati selezionati fotografati e catalogati i risultati saranno presentati giovedì 21 novembre e sarà il primo resoconto di un lavoro che ha una grande importanza sociale lo studio ha grande importanza perché fa conoscere in maniera esatta in quale zone si trovino determinati pollini ne informa riguardo la morfologia e il ruolo a cui sono preposti in natura e in aggiunta fornisce elementi per una più attenta pianificazione delle specie da introdurre nell'ambiente come annunciato nei titoli oggi parliamo di teatro abbiamo in studio due ospiti che in realtà sono due amici il direttore artistico del teatro di Santa Maria Ingradia Viterbo Stefano Porri buongiorno e Cristina Caldani del teatro Spazio Fabbrica di Lugnano in Teverina ben trovati ben trovata allora Stefano grazie Stefano parliamo della programmazione per i mesi di novembre e dicembre illustrasci questi spettacoli poi successivamente parleremo con Cristina Caldani di altri aspetti di questa stagione teatrale a te la parola partirà proprio sabato 23 novembre al teatro Spazio Fabbrica di Lugnano in Teverina il primo appuntamento di questa lunga carrellata di importanti eventi che costituiranno il cartelone artistico sicuramente più significativo del territorio sia a Ortano che a Merino dal punto di vista appunto teatrale il 23 novembre debutteremo con Paolo Endel mattatore del teatro e anche del cinema italiano che porterà il suo cavallo di battaglia dal titolo Carcarlo Pravettoni tra l'altro Paolo Endel sarà coadiuvato da Rania Risessa la chitarra e sarà un escursus di tutti i suoi personaggi più importanti che hanno comunque costituito la sua lunga carriera di cabarettista e di uomo ironico e sarcastico come Paolo Endel appunto si è sempre presentato il successivo appuntamento invece sarà il 7 dicembre con Il padre dello sposo un remake del film del padre della sposa del 1990-91 e verrà interpretato da un altro grande del cinema e della tv italiana come Massimo Bonetti insieme a Federico Tocci e lo spettacolo è incentrato appunto come in qualche modo ripercorre un po' l'escursus del film del padre della sposa da questo punto di vista Massimo Bonetti interpreta il papà dello sposo dove nel giorno dei preparativi appunto del matrimonio succederà il colpo che in qualche modo scompiglierà tutti i programmi del matrimonio ma ovviamente vi aspettiamo al teatro al teatro appunto Spazio Fabbrica Lugnano in Teverina per questi due primi appuntamenti della stagione teatrale prego Cristina diciamo che il teatro Spazio Fabbrica quest'anno ha radicato molto il suo contatto con il territorio si è collegato profondamente con il territorio e quindi ha incrementato anche tutte le altre attività oltre quella della produzione e della distribuzione degli spettacoli dal vivo quindi della stagione ha lavorato sulla creazione di un'altra serie di attività che colleghino il territorio con il teatro quindi l'offerta è un po' più ampia l'offerta è più ampia è aumentata e vediamo subito fino a dicembre cosa succederà abbiamo aperto una scuola di danza ci sono corsi di danza classica di pop e abbiamo anche dei corsi di salsa danze latinoamericane caraibici e balli di gruppo nonché di liscio con una presenza ortana perché gli insegnanti sono Maurizio Maura e Francesca Pierluigi che hanno anche la scuola di danza rosa blu qui a Petignano sono tre presenze di alta qualità c'è stato anche confermato dagli allievi quindi i corsi stanno andando molto bene faremo dei master teatrali ma ne parleremo più avanti perché cominceranno a gennaio siamo molto diciamo collegati col territorio anche nel rapporto con gli agriturismi con le strutture ricettive per cui proporremo dei pacchetti che comprendono gli agriturismi stanno proponendo dei pacchetti che comprendono anche la visione dello spettacolo o le lezioni di danza dal venerdì alla domenica e in più abbiamo aggiunto una sezione che si chiama la fabbrica dei sogni di cinema per i bambini per cui il 26 dicembre in particolar modo partirà la rassegna che è a cura di Agostino Cecchini la rassegna di cinema per i bambini con il film di Natale che è Stardust dal romanzo di Neil Gaiman Charles Vest di Matthew Vaughn con Michelle Pfeiffer Robert De Niro e Rupert Everett è una favola meravigliosa che racconta la caduta di una stella è una favola un po' per tutti molto gradevole sì anche senza entrare in concorrenza però il nostro piccolo film di Natale per i bambini lo vogliamo proporre bene volete aggiungere qualche altra notizia il costo dei biglietti una comunicazione per i nostri ascoltatori gli spettacoli in serale sono alle 21.15 il costo dei biglietti è sempre ridotto insomma è 15 euro poi c'è un ridotto per studenti fino a 25 anni studenti universitari studenti delle scuole e over 65 che è di 12 euro l'abbonamento a 7 spettacoli è di 91 euro e l'abbonamento ridotto è di 70 euro Stefano vuoi salutare i nostri ascoltatori? sì, certo naturalmente l'augurio chiaramente anche per questa terza edizione è tutto rivolto ai nostri spettatori che ci hanno come l'anno scorso con la loro presenza aiutato e stimolato ad andare avanti la programmazione è veramente molto bella ci abbiamo lavorato tanto dando anche un grande spazio come pian piano poi vedremo nelle prossime puntate quando saremo qui ospiti da voi che appunto stiamo insistendo molto su una programmazione e su un input ben preciso che è quello della nuova trammaturgia contemporanea con giovani autori e con artisti chiaramente di compagnie di livello nazionale come è stato sempre comunque nella nostra organizzazione abbiamo dimenticato il concerto di Natale per chi ama sentire una tostera natalizia sabato 21 dicembre avremo il concerto di Natale alle ore 21 con un gruppo sempre del territorio perché noi ci colleghiamo un gruppo del territorio ma che si sta distinguendo in tutta Italia anche in ambiti internazionali sono i BMW Cabrio si chiamano sono cinque coristi a cappella che fanno questo concerto che si intitola No Silent Night quindi è un repertorio un po' inconsueto stiamo parlando di tutto il repertorio di Natale con il blues tutto rigorosamente a cappella Molto bello sicuramente abbiamo dato quindi tutte le informazioni ai nostri ascoltatori vi auguro un buon lavoro ci rivediamo ad anno nuovo ci rivediamo ad anno nuovo auguri grazie è ora il momento di vedere le previsioni meteorologiche diamo la linea alla redazione del Meteo 3B e da seguire le notizie della infomobilità per il Lazio un saluto da Alex Guarini di 3bimeteo.com alte pressioni che si mantengono latitanti sull'Italia ne consegue quindi una domenica discreta con addensamenti nuvolosi soprattutto sui settori tirrenici gli ionici e dal nord ovest dove non escludiamo anche qualche debore isolata pioggia andrà meglio altrove ma attenzione perché purtroppo si va approfondendo una nuova depressione sul Mediterraneo occidentale che porterà un nuovo peggioramento soprattutto lunedì ma partiamo con le temperature iniziando dai valori minimi che saranno stazionari da nord a sud dello stivale congelate diffuse sull'arco alpino per quanto riguarda i valori massimi anche questi non subiranno variazioni significative con punte ancora gradevole di 19-20 gradi sulle estreme regioni meridionali ma andiamo quindi a vedere il dettaglio previsionale per le regioni del nord che vedranno a cieli nuvolosi e molto nuvolosi soprattutto sui settori di Ponente con il rischio anche di qualche debore isolata precipitazione ma con ulteriore peggioramento a partire dalla serata a causa di quel vortice di cui vi parlavo poc'anzi andrà meglio lungo i settori alpini e prealpini ed anche al nord-est passiamo adesso alle regioni del centro che vedranno una nuvolosità più consistente sui settori tirrenici dove a tratti ci potrà essere ancora qualche goccia di pioggia andrà meglio invece lungo la dorsale appenninica e il versante adriatico con spazio anche per qualche schiarita e infine sulle regioni meridionali maggiori addensamenti sui settori ionici con il rischio ancora di residui acquazzoni andrà meglio altrove soprattutto sulla Sardegna ma temporaneamente perché in serata anche qui il tempo tenderà gradualmente a peggiorare con nuvolosità in aumento a partire da ovest aggiornamenti in tempo reale su trebimento.com A Tarquinia in occasione della festa in onore di San Martino è stato istituito il divieto di transito e sosta oggi dalle ore 8 fino alla mezzanotte di domani 17 novembre in piazza San Martino sulla strada 577 del lago di Campotosto stanza unica alternato tra appoggio cancelli e amatrice per lavori a Nettuno di vieto di transito e di parcheggio con rimozione forzata per una manifestazione in piazza Cesare Battisti via Dalmazio a Birago via Alcide dei Casperi e in via Giovanni Paolo II dalle 8 di oggi fino alla mezzanotte di domani 17 novembre mentre su via Ottolini senza unico di marcia a cura dell'assessorato alla mobilità della regione Lazio e Aci Siamo ora giunti all'appuntamento con il Cine Alberini di Orte questa settimana sarà proiettato il film Cattivissimo Me 2 sabato 16 alle ore 21.45 domenica 17 alle ore 15.30 17.45 21.30 martedì 19 alle ore 21.45 ricordiamo che in questo giorno il costo del biglietto è a soli 4 euro ed è tutto per questo numero di TG Magazine grazie per l'ascolto e arrivederci a sabato prossimo a sabato Grazie a tutti